Con la grande traversata che ci farà esplorare i territori rimanenti di Special Energy, io dell'Indonato Marsiglia provo a raccontarvi velocemente quello che è accaduto fino a questo momento. Nella Limited Edition alla posizione numero 15 abbiamo ascoltato Clients con Waiting for Love, Going Crazy di Flick Capella e Otre e Vince featuring Ashley Gianna alla numero 14, alla 13 Connie Devon e Tom Bailey con Losing My Religion, Anybody di Disco Frears alla 12, alla 11 Dainoro e Upwork e Mr. G con Electro. Nella Special Edition alla numero 10 abbiamo ascoltato A.O. di Canta, la nuova Coldabank, Afterlife, Envius di Aluna alla numero 8, alla 7 Blinky, Take Control, mentre alla 6 abbiamo appena ascoltato Sleepwalking di Edelbrook. Bene, ora mentre Febzy DJ prepara il prossimo blocco che caratterizza Special Energy con l'area dedicata alle gestioni dei brani 5 e 4, la Entry Level, noi ci apprestiamo ad attraversare il primo Special Point, il Disco Time, un disco che ci conduce indietro nel tempo attraverso suoni e melodie. Oggi il Disco Time appartiene a DJ Herbie, pseudonimo di Enrico Acerbi, uno dei più prolifici producer degli anni 90 che con la voce di Stefi, ovvero Stefania Baccherli, diede vita nel 1994 a uno dei suoi più grandi successi intitolato My Body. Ciao, sono DJ Herbie, nel Disco Time di oggi sono lieto di farvi riascoltare uno dei miei grandi successi, My Body. Un saluto a tutti gli amici della Special Energy, un saluto e un abbraccio da DJ Herbie. Ciao! 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 Special Energy Disco Time Era DJ Herbie featuring Stefi e la sua My Body, il grande successo Eurodance del 1994 che oggi ha inebriato la nostra mente nel Disco Time. Ringraziamo DJ Herbie per essere stato con noi. Terbi, vai con il saluto. Ciao, baby! Ora però è tutto pronto per poter esplorare la nostra piccola area di Special Energy, la Entry Level, dove gestiamo i brani 5 e 4. Alla posizione numero 5 oggi la traccia che suoniamo è di Kaz James con Show Me All Your Love. Show Me All Your Love 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 It's time I feel like I'm in love again, love again, love again, love again. nice, this is time I feel like I'm in love, true love, love again, love again, get again, get again, get again, again, get again. ehi, tu Show Me All Your Love Cantante e disc jockey australiano, classe 1982, prima di intraprendere la carriera solista, ha fatto parte del progetto Dance the Body Rockers. Sto parlando di Kaz James, che abbiamo appena suonato in quinta posizione di Special Energy, mentre alla numero 4 siamo pronti per liberare Becky Hill e Sigala con Heaven on My Mind. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti